Bentornati sul mio canale, io sono Diletta e benvenuti se è la prima volta che passate da qua. Vi invito ad ascoltare anche gli altri podcast, sono tantissimi, e ad iscrivervi, a lasciare un commento o un like. Oggi parliamo di Cesare Pavese, un importantissimo autore, poeta e traduttore del Novecento italiano. Pavese nacque nel 1908 a Santo Stefano Balbo, nelle Langhe, in una famiglia piccolo-borghese. Ben presto si trasferì a Torino, dove compì gli studi. Nel 1932 si laureò in lettere, con una tesi sul poeta statunitense Walt Whiteman, che è considerato il padre della poesia statunitense e fu un innovatore perché rifiutò i cani tradizionali della poesia dell'epoca, ispirati al romanticismo, e le sue opere erano caratterizzate dall'uso del verso libero e di simbolismi forti. La sua raccolta più famosa è Foglie d'erba. In questo periodo Cesare inizia a tradurre autori inglesi e statunitensi e nel 1934 prese il posto di Leone Ginzburg, arrestato dalla polizia fascista alla direzione della rivista La Cultura. Chi era? Leone Ginzburg, un importante intellettuale italiano oppositore del fascismo e tra le sue attività si ricorda quella di traduzione e di critica della letteratura russa. Sua moglie Natalia Ginzburg è la scrittrice famosa per il romanzo lessico familiare. Nel 1940 Leone Ginzburg e la moglie furono costretti al confino in Abruzzo e nel 1943, dopo la caduta del fascismo, Leone tornò a Roma e animò la resistenza nella capitale. Nello stesso anno venne arrestato e rinchiuso nel carcere di Regina Celi e morì il 5 febbraio 1944 a causa delle torture che le erano state inflitte dai tedeschi. Per quanto riguarda Pavese, dobbiamo dire che iniziò poi anche una collaborazione con la casa editrice Einaudi. Nel 1935 viene arrestato a causa dei rapporti con il gruppo antifascista Giustizia e Libertà. Viene inviato al confino per un anno a Branca Leone Calabro e cosa intendiamo per confino? Un esilio all'interno del confine nazionale in luoghi fuori mano come piccoli paesi isolati o isole. Nel 1936 pubblica la raccolta di poesie Lavorare stanca, nel 1941 pubblica Paesi tuoi e con quest'opera ottene il grande riconoscimento come scrittore, il primo vero e proprio. Successivamente nel 42 viene assunto definitivamente presso la casa editrice Einaudi e nel 43 durante l'occupazione tedesca troviamo rifugiato nel Monferrato dove ha un approccio di distacco verso la resistenza. Successivamente nel 1945 si iscrive al partito comunista e collabora con l'unità. Approfondisce e riflette il mito e il folclore. Nel 1950 vince il premio strega per la bella estate e ad agosto viene ritrovato morto o suicida. Bene, se questo podcast vi è sembrato utile fatemelo sapere tramite commenti, l'iscrizione e anche attraverso il like. Vi invito a restare sempre connessi per ascoltare i nuovi podcast.